Benvenuti. Oggi parleremo di quello che è uno dei più comuni, se non forse il più comune ostacolo, nella pratica di meditazione per i principianti, ma non solo, anche per praticanti più avanzati. Questo non solo può limitare molto i benefici che puoi trarre dalla pratica, se no che in molti casi arriva a scoraggiare il praticante al punto da fargli interrompere la sua pratica. Quindi parleremo un po' oggi di come affrontare questo ostacolo e di come risolverlo. In più, alla fine del video condividerò con voi il mio metodo di meditazione che insegno normalmente e che io stesso pratico, così che se volete lo potete provare e praticarlo da soli nelle vostre meditazioni. Quindi questo problema si può manifestare in molte forme diverse, ma generalmente la forma chiave o la forma centrale con cui si manifesta è il pensiero che io non sono capace, che non lo sto facendo bene e che insomma non sono in grado di eseguire questa meditazione. Quindi ci sono un sacco di metodi di meditazione distinti, però tutti quanti alla fine implicano un certo livello di concentrazione, che sia osservare l'aspirazione, fare uno scan del corpo o meditare su un particolare aspetto o qualità. In ogni caso questi metodi lavorano con la concentrazione. Quando questi metodi vengono esposti a noi, diciamo che è comune immaginare che una pratica ben eseguita è una pratica dove la nostra mente è ferma costantemente sopra l'oggetto, sopra il metodo che stiamo utilizzando per praticare. Quando poi uno inizia a praticare questi metodi, si rende conto di quanto sia effettivamente difficile mantenere l'attenzione lì e quindi può essere molto scoraggiato rendendosi conto che può mantenere l'osservazione solo per pochi secondi, per poi essere distratto per qualche minuto e ritornare per qualche secondo alla visualizzazione e ancora distrarsi. Ecco, questo può essere estremamente frustrante. È importante sapere, a proposito, che questo continua a succedere per sempre. Insomma, non è un problema che sparisce, è un problema che diminuisce poco a poco col tempo. Poco a poco siamo in grado di mantenere di più l'attenzione sulla meditazione o sul metodo, però che in generale uno continua ad avere questo problema di distrarsi, di non essere in grado di mantenere la concentrazione per tutta la vita. Insomma, immagino, perlomeno per me, continuo ad incontrarlo tutti i giorni. ovviamente ci sono giorni in cui uno riesce a concentrarsi meglio, giorni in cui uno riesce a concentrarsi peggio e questo è completamente normale. Uno si immagina magari un meditando che stai lì sempre illuminato e in pura concentrazione, in contemplazione del silenzio interno, quando la maggior parte delle meditazioni, realisticamente parlando, uno si trova lì seduto a affrontare i problemi e i pensieri normali che gli si presentano durante la giornata e provare a rilassarsi e usare il metodo di meditazione per tornare e recentrarsi sulla presenza, sul momento presente. Quindi questo provare a rimanere concentrati, perdersi e ritornare alla concentrazione è proprio la pratica di meditazione, è proprio quello che noi stiamo facendo durante la meditazione. Perderci e quando ci rendiamo conto che ci siamo persi, ritornare, ritornare al centro. Quindi è molto importante che in questo momento in cui noi ci accorgiamo che ci siamo persi nei nostri pensieri, non ci giudichiamo, non siamo lì a dire ah, guarda, ecco, adesso lo posso vedere che non sono un buono a nulla, non sono capace di meditare, un'altra volta ho fallito, non fa per me. In questo momento è importante essere gentili con noi stessi, essere compassionevoli con noi stessi e semplicemente dire oh, mi sono perso e gentilmente ritornare sul centro e ovviamente prova a mantenermi lì il più possibile, però quando mi perdo non fa niente, è normale, è il processo normale della pratica questo. Qui diciamo che in questo atteggiamento nostro di aspettarci di essere all'improvviso capaci di farlo in modo perfetto, si nasconde un atteggiamento molto comune nelle nostre menti, che è un'aspettativa molto alta di noi stessi, una rigidità molto alta nei confronti di noi stessi e anche una poca compassione e comprensione dei nostri limiti. Inoltre c'è anche da dire che gioca un ruolo in questa confusione che è molto comune anche il fatto che la meditazione venga venduta come questa cosa di estrema estasi e piacere divino, cosa che a volte è, però molte volte è anche una pratica che richiede un certo sforzo, che non sempre è così estatica, molte volte è molto mondana. Insomma, uno si incontra con i propri pensieri, con le proprie paure, con i propri pensieri ripetitivi che sono quelli che tutti i giorni gli affollano la mente. E questo è un aspetto molto importante in realtà. Noi, quando siamo lì seduti, vogliamo anche vedere questo, vogliamo anche essere più coscienti e renderci conto di quali sono i pensieri, le emozioni che ci affollano la mente tutti i giorni. Quindi diciamo che realmente non esiste una buona o una cattiva meditazione. Una meditazione dove non riesco a concentrarmi, dove mi rendo conto che sono sempre lì a ripetermi le stesse cose, non è una meditazione inutile affatto, è una meditazione molto utile. E da questa osservazione, potendo io in questo momento veramente vedere che pattern mentali sto seguendo, da lì in poi sì che potrò fare delle azioni per migliorare le mie abitudini mentali o cambiare i miei pattern mentali. Quindi nella pratica di meditazione noi vogliamo raggiungere, insomma il nostro scopo sarebbe raggiungere un livello di rilassamento più profondo e un livello di presenza più alto. Per fare questo è importante che pratichiamo la compassione con noi stessi, che pratichiamo il fatto di sederci lì e non essere così attaccati al fatto di farlo perfettamente, sennò di permetterci, insomma, di sbagliare. Mettiamo il nostro meglio, facciamo tutto quello che possiamo, ma proviamo a non frustrarci di fronte alle limitazioni che abbiamo naturalmente. Questo esercizio di coltivazione della compassione, della pazienza e, diciamo, della comprensione realistica dei nostri limiti è un esercizio molto importante che aumenta l'amore verso noi stessi e diciamo che ci può far essere più in pace con noi stessi. Quindi diciamo che è fondamentale affrontare questo problema molto comune nelle nostre meditazioni e vedere come possiamo risolvere e affievolire questa violenza contro noi stessi. Se osserviamo profondamente possiamo anche riuscire a individuare questa violenza o questa, diciamo, una qualità scomoda nella nostra energia, nella nostra persona da cui vogliamo spesso sfuggire, che vogliamo evitare. E nella meditazione quello che vogliamo fare è proprio poter osservare queste parti di noi stessi con la maggiore possibile quantità di equanimità, di compassione, di accettazione. E quindi, diciamo che, riducendo la paura e il timore che abbiamo verso le parti di noi stessi che non accettiamo, accettandola sempre di più, allora poi la loro carica negativa andrà lentamente diminuendo e potremo risolvere, rintegrare e trasformare queste parti di noi stessi. Quindi, mora della storia, se ti metti a meditare e non riesci a concentrarti per niente non fa niente, è normale, è completamente naturale, succede a tutti e va avanti così perché questa è la pratica di meditazione. Ecco, come promesso, alla fine del video vi parlerò del metodo che uso per la meditazione così che, se vi interessa, lo potete provare e vedere se vi funziona. Quello che faccio semplicemente è, prima di tutto, portare la mia attenzione all'interno del corpo. Basta che sia dentro, insomma. E questo si può fare con diversi modi, usando la respirazione o provando a sentire l'interno del corpo. E quando, poco a poco, sento che, realmente, la mia attenzione sta entrando nel corpo fisico, dopodiché provo a farla scendere nel basso addome, dove c'è un centro energetico molto importante che si chiama Dan Tien, nella pratica di Qigong, e semplicemente mantengo la mia attenzione ai il più possibile. E, ovviamente, quando poi mi distraggo e mi rendo conto che mi sono distratto, prendo la mia attenzione, la riporto dentro e la riporto giù nel Dan Tien. Bene, spero che vi sia piaciuto questo video e che vi sia stato utile. Insomma, fatemi sapere. E niente, grazie mille per aver visto questo video fino in fondo e vi auguro una buona giornata e una buona pratica.